Quella che era stata ribattezzata, la visita delle polemiche, alla fine c'è stata. Giovedì mattina gli alunni di alcune classi delle scuole superiori di Frosinone hanno effettuato un sopralluogo nei pressi del nuovo stadio Benito Stirpe in zona Casaleno insieme al sindaco uscente Nicola Ottaviani. Proprio quest'ultimo però era stato accusato di strumentalizzare questa visita a fini elettorali. Vementi erano state le polemiche da parte degli altri candidati a sindaco per una scelta giudicata e inopportuna a circa 20 giorni dal voto. Sulla vicenda era stata caldeggiata anche la possibilità di far intervenire il provveditorato agli studi. La risposta di Ottaviani non si era fatta attendere. In questo clima il liceo scientifico Severi aveva deciso di annularla la visita, una visita che giovedì mattina ha avuto luogo in una zona dell'impianto che lo stesso Ottaviani aveva definito in completa messa in sicurezza a ridosso della curva nord e del settore di Stilati. Nel corso del sopralluogo dunque ai ragazzi sono stati illustrati particolari tecnici ed amministrativi che hanno portato proprio alla realizzazione della struttura. Terminata la visita restano le polemiche fra tutti gli schieramenti nel più classico clima da campagna elettorale.